Minerva presenta E' buona idea Ma cosa succede? Come l'è fredda quest'acqua Come solo 90 gradi Ora gli do un colpo di telefono Pronto, sono Zaccaria Come l'è che il bagno è un po' freddino? Ah si, tu che mi porti via l'acqua Sai che ti dico Lasciami in pace che ho da lavorare Ehi no, non mi dirà che gli ha da lavorare davvero eh Zaccaria, fuori il periscopio 40 gradi a dritta Avvistato Aha Un si vergogna di infrottole a un povero diavolo Ma sei sempre tra i piedi? Mo ti faccio vedere io Appunto vivo E sono venuto a posta per vedere Ti Ma non lo sai che è il tuo televisore E mi piace un po' io Perché è un Minerva Che linea, che qualità e che durata Secondo programma transistor Mobile compact e brevettato Sintonia automatica Comando a distanza Cellula fotoelettrica Minerva Un eccezionale primato tecnico Ed oggi anche la lavatrice super automatica Minerva Per un bucato tutto speciale La garanzia? Il nome Minerva Perché dietro c'è una grande industria ai vostri ordini Minerva